siamo già in onda Pasquale Cariello ha finito il comizio operazione verità in sintesi ce la puoi dire questa verità quale cosa succede? io ho semplicemente detto quello che è accaduto in questi sette mesi ho la schiena dritta e non mi faccio piegare da nessuno siamo arrivati a questo proprio perché non mi sono piegato a nessuno hai parlato di ricatti i ricatti sono i ricatti politici non è che qualcuno mi ha puntato il coltello alla gomma siccome io non mi ripago perché Scanzano finalmente deve tornare a nascere a rinascere non a tornare indietro io vado avanti per la mia strada sogno infranto di Cariello di Scanzano chi è che? io avevo impostato questa campagna elettorale attraverso il mio sogno il mio sogno era quello di fare il sindaco e fare bene alla città cioè un sindaco bravo fa bene ad una comunità è chiaro che questo sogno non l'hanno infranto a me perché sono pronto a riprendere ma l'hanno infranto il sogno di duemila e passe persone che mi avevano sostenuto ci avevano sostenuto e soprattutto avevano creduto in questa nuova classe dirigente politica un comizio però da cui non abbiamo capito ma ti dimetti come hai detto dopo il consiglio pubblico io ho semplicemente detto questo dopo l'approvazione in giunta del bilancio sarò mi dimetterò se nel frattempo qualcuno viene lì ci si siede senza ricatti e prova a mettere giù punti programmatici a fare il comunicato stampa che entra in maggioranza per i prossimi cinque anni io non mollo senti sindaco ma gli hai dato bacchettate a tutti la banda dei tre la banda dei sette inizialmente era la banda dei tre e adesso la banda dei sette come fanno questi adesso a venire al comune a sedersi al tavolo con te? ah guardi a me non interessa io ho detto la verità io ho detto la verità il bastone e la carota se loro amano questa città fanno quello che ho detto io stasera quindi io non chiamerò nessuno cosa accadrà? non lo so lo vedremo nei prossimi giorni intanto facciamo il Natale in Santa Pace ok grazie e buon Natale arrivederci a tutti ma al pubblico non chiedete niente le persone che stanno